Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A1 fare attenzione per personale su strada segnalato tra Firenze e Sud di Firenze e Scandici in direzione Bologna. Sulla A11 le aree di servizio di Peretola Nord in direzione Pisa e Seravalle Sud in direzione Firenze sono sprovviste di GPL per un guasto. Sul raccordo Siena-Firenze è chiuso per lavori lo svincolo di Poggi Bolsi Sud in uscita in direzione Firenze. La viabilità cittadina in via dei panciatichi per lavori alla rete idrica di vieto di transito in via del Terzolle, restringimento di carreggiata lato via Vasco de Gama. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!